Ciao a tutti, sono l'allenatore del MSC Gambarogno, ci stiamo preparando per l'avventura della Coppa Svizzera, siamo quasi pronti e il sabato prossimo andiamo a Gunsville per vincere. Ciao a tutti, sono responsabile dei signori del MSC Gambarogno, col mio mister stiamo preparando la trasferta di Coppa Svizzera a Gunsville, chiaramente si va per vincere e poi per fare la festa come sempre con lo spirito di nostra squadra signori. Forza Gambarogno! Forza Gambarogno! Ciao ragazzi, sono Davide Acosta, portile FC Lugano, vi auguro un grandissimo boccalupo per la partita di Coppa, conta solo vincere, conquistate la Svizzera per il Ticino, forza Ticino, forza Gambarogno. Dai, in boccalupo! Ciao ragazzi! 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 Odi, 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 odi. Ragazzi, buona fortuna per la Coppa, forza Gambarogno, forza Marcel, fammi un gol, passate questo turno. Buona fortuna anche da parte mia per la Coppa, forza Gambarogno sempre e forza Ticino. I und du, und nur der Mond, schau zu, dann sagst du Hula Baloo. Do, hoff du g'sagt, Radfuh, hoffi gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. I und du, und nur der Mond, schau zu, dann sagst du Hula Baloo. Oh di odio 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 Buona fortuna per la partita in la Coppa Svizzera, auguri, 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 forza Sturigo. Ciao ragazzi, forza Gambarogno, saluto di Riccardo Rodriguez. Ciao ragazzi, vi auguro bocca al lupo per la partita di Coppa, ti ferò per voi e forza Gambarogno. Du gehend frei, du sagst nur, was ist schon dabei. Odi, 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 eh. Odi, 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 eh. Odi, 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 eh. Odi, 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 eh. Odi, 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 o Sì, buona fortuna in bocca al lupo per la Coppa, per la partita di Coppa. Forza Gamberogno, forza Ticino. Ciao, ciao, ciao. Ciao ragazzi, Admino e Medi, bocca al lupo per la partita in Coppa. Forza Gamberogno, forza Ticino. Ciao ragazzi, sono Matteo Tocetti. Per la partita di Coppa vi faccio il mio più grande in bocca al lupo. Una competizione dove in fondo conta solo vincere, quindi date veramente tutto e cercate di passare questo turno. e anche da buon ticinese, lo spero davvero con tutto il cuore. Forza Gamberogno. Ho la palù, ho la palù, ho la palù. Dalla panchina dell'FC Lugano, forza Gamberogno. Già l'anno scorso abbiamo perso la finale col Medrisio, eh. Vare in Coppa a Svizzera bisogna farsi rispettare, però vedi, Usch, il tuo posto è questo qua, non in campo. Seduto lì, così Gamberogno ha chance di vincere. Vai. Forza Gamberogno. E bocca al lupo per la partita di Coppa. Ho la palù. Odi 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 odi, odi 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 odi. Porco d'arte, ti hai dato la tua talisa. È quasi la mia dipende, la patita di Coppa mol ha preso che Roma sta spingendo l'FC Lugano every day. Tu sei ancora fortunato? Tu sei ancora fortunato? Ma prima roba te lì Taglio le mie basi Che tuo sogno e Marco Casuso a minuto 183 Hai mangiato che sei ball Espulso Marcel Espulso Affifella Per voi Salute A voi Perché tu sei mai Guardia adjusta irta Fabi Guardia Guardia Ullapaloo Ullapaloo Ullapaloo